Amedeo Bottaro ha nominato nel pomeriggio di ieri, dopo lunghe, complesse e trattative, la nuova giunta della città di Trani, dopo averla azzerata un mese fa a causa di incomprensioni tra la stessa e la maggioranza consigliare in merito ad alcuni provvedimenti finanziari. Dopo l'approvazione del bilancio e il chiarimento con i partiti, il primo cittadino tranese ha nominato un esecutivo composto da quattro donne e cinque uomini, dei quali sette in quota partiti che rappresentano la maggioranza di centro-sinistra, dei nove assessori, cinque sono però new entry, mentre gli altri sono riconferme. Il ruolo di vice sindaco è andato al DEM Carlo Avantario, in passato già sindaco della città. A lui vanno anche le deleghe ad affari generali e politiche della salute, gli altri assessori sono Domenico Briguglio ai lavori pubblici, Cherubina Palmieri al contenzioso, Marina Nenna attività produttive, Patrizia Cormio, personale e servizi sociali, oltre ai riconfermati Cecilia Di Lernia, la polizia locale, Michele Di Gregorio L'Ambiente, Felice Di Lernia, pubblica istruzione e cultura e Luca Lignola, bilancio e rapporti con le società partecipate. Felice Di Lernia e Lignola sono assessori tecnici, dunque non riconducibili ad alcun partito. Dopo la nomina, ieri sera si è tenuta già la prima riunione di giunta per l'approvazione dell'importante rendiconto di bilancio. Ritengo di essere stato coerente rispetto anche a quello che avevo detto, il motivo per che avevo realizzato l'azzeramento, cioè in realtà era evidente un problema di scarsa rappresentatività politica dell'aggiunta, è evidente che quella era un'aggiunta che aveva lavorato bene, non posso assolutamente dire niente, anzi ringrazio di fatto tutti gli assessori che non sono stati riconfermati, ma che aveva una pecca, una scarsa rappresentatività politica. Di fronte a una scarsa rappresentatività politica ho utilizzato un metodo, il più semplice, quello di chiamarmi dentro di fatto molti consiglieri comunali, molta politica all'interno direttamente dell'esecutivo. L'ho fatto, lo abbiamo fatto, voi pensate che ci sono credo almeno quattro consiglieri comunali che entrano in giunta per realizzare quello che è un'aggiunta politica, fortemente politica, che quindi oggi, mai come oggi può dirsi rappresentativa della mia maggioranza, del Consiglio Comunale e in generale di tutti i partiti, l'abbiamo fatto grazie anche al grande lavoro del Partito Democratico, che insieme a me ha inteso ricucire una profonda frattura che si era realizzata negli ultimi mesi, una frattura che ritengo finalmente possa dirsi ricucita grazie al lavoro, dicevo, del Partito Democratico.